Un berretta, famiglia schio straordinario, mette le corde Fenerbahce, autentica, corazzata e principale candidata alla vittoria dell'Eurolega di basket femminile per 77-70. Dopo aver condotto per tutto il primo tempo, le gialli blu sono costrette a sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della cenerentola e della manifestazione, che l'arena di Praga disputa una partita solo da applausi. Decisiva la terza frazione 25-14, l'unica vinta nettamente dalle turche e che ha di fatto indirizzato la contesa. Meraviglioso primo tempo, berretta subito sciolto con i canessi di Dur e Howard per lo 0-5 iniziale contro un Fenerbahce contratto nervoso. I primi 8 punti gialli blu sono di Stewart, 10-5, ma la risposta orange è immediata. Keyes, Mavri e Sottana rispondono con un break di 9-0, che li dà due possessi pieni alle scledenze. La riscossa turca, come legge in attendance e Penerbahce, alza enormemente l'intensità del suo gioco, soprattutto in difesa, dove ora è un muro imbalicabile, costringendo il berretta a tante palle perse e conseguenti contropiedi. Wander Slot firma il sorpasso con la tripla e risponde con la stessa moneta. Le parole di protagonisti, Jasmine Keyes, sapevamo che sarebbe stata una gara dura, ma l'abbiamo giocata alla grande, abbiamo perso energia nel terzo quarto, ma sono orgogliosa della mia squadra.